Eccoci tornati in studio per concludere in bellezza questo sabato live Radio Fermo 1 perché abbiamo ospite, è un gradito ospite, il presidente della provincia di Fermo, Fabrizio Cesetti. Grazie presidente per aver raccolto il nostro invito a questa intervista radiofonica. Lo ricordiamo, il presidente è stato di recente rieletto alla guida di una provincia che però oggi ha un volto nuovo, un volto diverso a partire dalle elezioni che sono state elezioni sui generis per usare un eufemismo. Lei presidente ha usato anche dei toni molto forti nei confronti della legge elettorale, una legge elettorale sbagliata, l'ha definita, qui era il rischio anche la democrazia perché i cittadini non hanno votato, hanno votato i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della provincia di Fermo. Comunque resta il fatto che il suo successo è stato un successo eclatante per molti versi e che comunque l'ha riempita di soddisfazione per una competizione che lei ha definito competizione vera. Qual è il quadro, presidente? Insomma, pesa di più il fatto che i cittadini non abbiano avuto voce in capitolo o comunque per la sua persona parlo questa riconferma forte e voluta, fortemente voluta, dagli organi amministrativi territoriali della sua persona alla guida dell'ente? Buongiorno a tutti, innanzitutto e grazie per l'invito. Ma quando noi ci siamo decisi a questa sfida anomala elettorale, l'abbiamo fatto innanzitutto per grande senso di responsabilità nei confronti della provincia, perché questa è una legge elettorale sbagliata che scaturisce da una legge sbagliata, da una legge incostituzionale ed io ci sono andato anche troppo leggero, perché vedi Fedeli, quando in una legge si scrive in attesa della riforma costituzionale e facciamo questo, c'è il senso, la cifra di come in un paese sotto certi aspetti si stiano smarrendo le coordinate, perché in una Costituzione rigida come la nostra questo non è possibile, non è che si può scriverci in attesa della riforma costituzionale e facciamo questo, significa che la legge ordinaria può sovrastare disposizioni costituzionali, da qui l'errore evidente. Però lei Presidente, io la interrompo perché così facciamo un botta in risposta dinamico, però lei Presidente, magari i più cinici potrebbero sostenere che lei comunque si è prestato al gioco, cioè se c'è una regola del gioco che uno non condivide può anche scegliere di non giocare, a svantaggio del territorio, per carità questo non lo mettiamo in discussione, lei comunque ha giocato. Io ho giocato perché io volevo restare il primo e l'ultimo Presidente eletto direttamente, perché sento molto l'investitura popolare, io credo che una democrazia vive bene quando è il corpo elettorale che si esprime e si esprime, ha la possibilità di esprimersi in tutte le occasioni e in tutte le occasioni necessarie. Io stesso che sono un estimatore del governo Renzi non ho condiviso e non condivido, lo ribadisco anche oggi di come Renzi sia andato il governo in questo Paese. È un errore, è stato uno strappo, è stato uno strappo perché non è passato dal corpo elettorale, perché non è che si possa legittimare con un voto successivo come quello europeo e non è che ci si possa legittimare sui sondaggi, questo non va bene, non va bene in un Paese democratico come il nostro, sono ferite che alla lunga non... Si è tolto l'ultimo diritto che i cittadini sentivano proprio, cioè quello di andare a votare, anche se poi c'è stato il partito del non voto che ha preso sempre... Poi facciamo la riforma del Senato, lo stesso lì non si vota, si fa nell'elezione di secondo grado. Il Senato o lo si abolisce, e io sono per abolirlo totalmente, oppure deve essere un Senato elettivo. Ce l'immaginiamo noi quando il Senato andrà a interagire con la Camera dei Deputati, eletta direttamente, l'altro no, quale sarà, diciamo, la sinergia, sono fatti gravi. Da qui le province, perché io mi sono prestato, io volevo mollare lì. Il mio partito, molti sindaci, mi hanno chiesto di restare, perché in questo momento di passaggio verso una nuova fase, che tra l'altro deve ancora arrivare, secondo me sarà lunga, poi ne parleremo. Secondo loro, secondo il mio partito, secondo molti sindaci, c'era bisogno di garantire alla provincia continuità, c'era bisogno di garantire esperienza e conoscenza delle problematiche della provincia e anche, diciamo, della sua organizzazione. Io alla fine ho accettato, per senso di responsabilità, e sì, anche perché sono affezionato io alla provincia di Fermo, perché qui ho fatto, l'ho sempre detto, l'esperienza più forte, l'esperienza più entusiasmante, più significativa, diciamo, della mia vita politica. È stata un'esperienza forte. L'ho fatto, ecco, quindi non è che mi sia prestato al gioco, perché ho raccolto un invito che, tra l'altro, era un invito giusto, perché quello che per me è un sacrificio era necessario a questo punto. Forse è stata l'esperienza più forte per lei, perché la provincia le ha dato modo di rafforzare ulteriormente quello che era il rapporto con i suoi concittadini. Però adesso lo scenario è uno scenario molto particolare. Da una parte il cittadino ha perso, e lei me lo conferma, in parte, la fiducia nel sistema alla base delle nuove province. Dall'altra ci sono dei continui tagli dal governo centrale. Quindi una provincia che di fatto è tra l'incudine e il martello. Cioè è una responsabilità, ma soprattutto un rischio per chi si mette in gioco come lei. Da Roma non arrivano belle notizie, soprattutto per gli enti locali come le province. Si parla di tagli, c'è una legge di stabilità che ha mobilitato i governatori di mezza Italia. Quali sono i rischi che la provincia corre? Anche perché, poi entreremo magari nel dettaglio, le materie che rimangono ancora in capo alla provincia sono molto delicate, dal dissesto idrogeologico fino ad arrivare ad altri aspetti come la viabilità, che preoccupano i cittadini. Sì, ma questo tu poni un problema vero. La provincia, poi ma sono le province in generale, no? Sono le province in generale, perché alle province sono state tagliate risorse, diciamo, enormi. Le ultime 400 mila euro. Tanto che non riescono più ad andare avanti. Per dare una cifra sulla provincia di Fermo, io rispetto al primo bilancio del 2010, che è stato il primo bilancio della provincia, quando ci siamo separati da Ascoli, noi abbiamo avuto tagli sul corrente per 9 milioni di euro, 9 milioni di euro. Sulla spesa corrente, per esempio. Su un bilancio di 35, su un bilancio di 35 milioni. Se insieme a questo mettiamo le minori entrate, come l'RC Auto, causa la crisi, causa la crisi economica, se ci mettiamo che sono tre anni che non viene più trasferita alcun fondo per quanto riguarda l'ex Anas, noi prima avevamo 5 milioni ad anno come provincia di Fermo, sono tre anni che non abbiamo più un euro. Se ci mettiamo che adesso, il 10 di ottobre, il ministro Alfano ha firmato l'ennesimo provvedimento in cui la provincia di Fermo sono stati tagliati 400 milioni, 400 mila euro. Se insieme a questo mettiamo i vincoli del patto di stabilità, noi vediamo che la situazione è veramente drammatica. È drammatica. Perché questo incide fortemente sullo svolgimento delle funzioni delle province, se non ci sono queste risorse. Tanto è vero che molte province a livello nazionale hanno fatto piani di riequilibrio, sono in dissesto, in predissesto e via dicendo. Noi, come provincia di Fermo, fino adesso abbiamo tenuto la barra dritta, c'è una situazione chiara sotto il profilo economico e finanziario. Non abbiamo risorse, però non abbiamo fatto debiti in questi anni. Abbiamo rispettato il patto di stabilità, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio. Nel fare questo, credo che abbiamo dato anche le risposte al territorio. Però adesso è tutto più difficile. È tutto più difficile perché il tutto, tra l'altro, va valutato in rapporto al riordino delle funzioni. Perché c'è stata, le province non sono più quelle di prima, gli hanno tolto le funzioni, non è vero niente, perché attualmente noi esercitiamo tutte le funzioni, non soltanto quelle previste dalla legge del Rio, che sono viabilità, edilizia scolastica, programmazione scolastica, ambiente e via dicendo, trasporto pubblico e trasporto privato. Ma noi oggi ci troviamo a gestire la formazione professionale, le politiche del lavoro, il turismo, l'agricoltura, la cultura, il dissesto ideologico, il genio civile, la protezione civile e ancora sono funzioni in capo alle province. E per esercitare queste funzioni sono necessarie le risorse. Noi abbiamo visto quello che è successo a Genova, ahimè. Per i nostri fiumi noi ne abbiamo quattro e sono abbastanza vivaci, purtroppo, perché vediamo che con i mutamenti climatici in questi ultimi tempi non c'è più un evento normale, ma siamo sempre in emergenza, in emergenza. C'è bisogno da una parte di opere, diciamo, di interventi infrastrutturali e per fare questo c'è bisogno di progetti, di finanziamenti, di autorizzazione e via dicendo, ma dall'altro c'è anche la necessità di interventi manutentivi, continui e permanenti e per fare questo ci vogliono risorse. Cosa facciamo, Presidente? Allora, rimaniamo al palo con il guinzaglio delle risorse in attesa di, facendo i debiti scongiori, di altri drammi? Cosa facciamo? La situazione è questa, dobbiamo cercare di contenere le situazioni di rischio ma senza risorse è difficile. Noi abbiamo inviato alla Regione dei report con dei progetti per mettere in sicurezza i fiumi in modo definitivo. Lo abbiamo fatto, ma ci vogliono ci vogliono milioni di euro. Come stanno i nostri fiumi, Presidente? Perché oggi purtroppo è cronaca come ricordava giustamente lei i fatti di Genova insomma fanno drizzare i nostri fiumi. Noi abbiamo fatto interventi importanti all'indomani dell'alluvione del 2011 in relazione ai quali ci sono state anche delle polemiche perché noi e qui lo rivendico con orgoglio noi approvammo come giunta dopo una notte insonne diciamo provvedimenti di somma urgenza che ci vennero proposti dai dirigenti competenti dai dirigenti competenti. Facemmo quello senza risorse confidando sul fatto che prima o poi sarebbero arrivate perché il governo era il governo Berlusconi aveva dichiarato lo stato di emergenza noi facemmo quello un atto di coraggio enorme perché non potevamo lasciare il territorio diciamo dissestato così com'era ricorderanno tutti quello che era successo a Casette d'Ete quello che era successo a Porto San Giorgio a Fermo incontrava la Camera e via dicendo fu un atto fu un atto ripeto di coraggio enorme noi lo abbiamo fatto i fiumi vennero messi in sicurezza quei provvedimenti che tante polemiche ingiustamente secondo me ha scatenato non dobbiamo dimenticarlo lo voglio ribadire tutti quegli interventi sono stati ammessi a finanziamento ed in relazione a tutti gli interventi il commissario di governo il commissario di governo ha dichiarato la sussistenza dell'urgenza e il nesso di causalità tra diciamo l'intervento e l'alluvione e sono stati tutti dico tutti nessuno escluso finanziati lo stesso presidente della regione all'indomani ahimè dell'alluvione di Senigallia dichiarò su un giornale e sulla pagina regionale bisogna prendere esempio da fermo quindi noi in quella circostanza la provincia ha fatto il suo dovere l'ha fatto con coraggio l'ha fatto con coraggio ma dopo quegli quegli interventi ci sono stati ben tre altri tre alluvioni due dei quali comportate superiori a quelle del 2011 del 2011 e sostanzialmente hanno retto quegli interventi però certo non dappertutto noi non eravamo intervenuti dappertutto allora per esempio ci troviamo che nell'ultimo gli altri hanno retto ma l'ultimo alluvione di luglio dove io mi sono trovato per strada a fermare le auto quel pomeriggio dove c'è stata quella bomba d'acqua che tra l'altro spazzo via il ponte comunale nel territorio tra Mont San Pietro Morico e Belmonte Piceno c'è stata l'erosione della strada lungo il fiume Ete Ete vivo sotto il territorio di Grotta Zolina e sotto il territorio di Montottone noi siamo anche lì intervenuti immediatamente anche lì con un provvedimento non poteva essere diversamente di sommurgenza limitato a quei due punti limitato a quei due punti e l'abbiamo già diciamo riconsegnati la viabilità con un bypass e l'abbiamo garantita dopo poche ore e adesso già abbiamo ultimato i lavori però ecco gli interventi sono necessari in modo continuo bisogna intervenire in altre realtà poi ci sono stati i progetti ordinari noi ad esempio abbiamo sistemato tutta la foce tutta la foce giù a Porto San Giorgio abbiamo rialzato il ponte e quell'intervento quando c'è stato l'alluvione nel dicembre è stato fondamentale perché se noi non avessimo rialzato il ponte lì sarebbe esplosa Porto San Giorgio si sarebbe allagato tutto altro che Genova quello è un intervento che noi abbiamo fatto tempestivamente un intervento ordinario però ripeto oggi è necessario e lo vediamo in ogni dove non soltanto affermo ma in ogni regione ogni anno in ogni stagione c'è da qualche parte un evento drammatico questa è la prova che il nostro territorio non è sicuro che ha bisogno di interventi infrastrutturali definitivi Presidente dalla difficoltà ad operare ha una difficoltà addirittura a farsi ascoltare e parlo dell'ospedale lei ieri ha partecipato all'inaugurazione di nuovi reparti al Murri di Fermo e all'inaugurazione era presente anche il governatore Spacca lei sappiamo che ha portato all'attenzione per l'ennesima volta del governatore Spacca l'esigenza di avere un ospedale di area vasta qui a Fermo ma il governatore è un po' glissato si è trincerato dietro a quella mancanza di risorse un'espressione spesso e volentieri anche speculata qual è il punto è il caso ormai di non dare più false speranze ai cittadini o bisogna comunque perseverare con il rischio poi di rimanere con in mano solo delle promesse non mantenute parlo in questo caso al politico all'amministratore ma io ieri credo che sia stata un'occasione importante è un'occasione utile innanzitutto bisogna sottolineare l'importanza dell'inaugurazione di ieri dei nuovi reparti un intervento necessario utile utile al territorio all'attuale nosocomio io ho sottolineato ieri e lo faccio anche in questa occasione bisogna dare atto alla regione che in questi ultimi tempi diciamo ha fatto molto per diciamo superare i ritardi del passato che c'erano lo ha fatto sia per quanto riguarda le infrastrutture per quanto riguarda diciamo le dotazioni strumentali lo ha fatto per essere completato questo percorso con la nomina dei primari perché noi abbiamo qui veramente professionisti che sono delle eccellenze sul territorio nazionale i sindacati però chiedono anche che venga sbloccato il turnover partendo dalla base va fatto va fatto ancora molto deve essere fatto ancora molto e i sindacati hanno ragione ieri si è parlato anche dell'ospedale io per la verità non volevo intervenire perché non mi sembrava utile in quanto era una giornata molto importante lo ha fatto il presidente Spacca chiamandomi positivamente credo in causa cioè evidenziando come io più volte avessi anche con toni abbastanza accesi posto questa questa questione a nome del territorio quindi sono stato chiamato in caso e sono intervenuto Spacca che cosa ha detto ieri Spacca non ha detto che l'ospedale non si fa anzi ha confermato la volontà di realizzare l'ospedale di rete però dice Spacca questo è un momento difficile noi possiamo garantire le risorse soltanto con le alienazioni dei beni della regione bene io sono intervenuto quindi non è un no anzi sotto questo aspetto a me in parte mi ha rassicurato diciamo la dichiarazione di Spacca perché penso perché mentire che se la regione fosse intenzionata a non procedere più alla realizzazione l'avrebbe detto o quantomeno l'avrebbe dovuto dire l'avrebbe dovuto dire non è così tra l'altro sono stati spesi 4 milioni già circa 4 milioni di euro come ammesso dall'assessore Mezzolani quindi se del caso se non si fa più bisognerà dar conto anche di quello io chiaramente ho preso la parola e cosa ho detto in sostanza bene se così è si proceda subito alla sottoscrizione dell'accordo di programma noi siamo pronti che Spacca diceva cosa è stato risposto Spacca diceva no dopo Spacca non ha risposto Spacca diceva ci mettiamo intorno a un tavolo io dico certo mettiamoci intorno a un tavolo ma siccome noi siamo pronti nero su bianco l'abbiamo già deliberato da un anno il 15 ottobre del 2013 noi abbiamo deliberato come provincia dico sediamoci intorno al tavolo domani mattina intanto firmiamo l'accordo di programma poi reperiamo queste risorse e riavviamo la procedura e andiamo avanti per la realizzazione questo è il punto questo è quello che bisogna fare io l'ho chiesto ieri continuerò ancora a chiederlo dopo l'insediamento sottoporrò questa richiesta non ce n'è bisogno ma lo rifarò vorrò sentire anche la voce del nuovo consiglio provinciale e vorrò sentire anche la voce dell'assemblea dei sindaci perché l'assemblea dei sindaci ora è diventata un organismo della provincia prima non lo era no? perché oggi sono il presidente il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci io chiederò su questo il parere del consiglio provinciale dopo l'insediamento e dell'assemblea dei sindaci e noi chiederemo come ho chiesto ieri alla regione ripeto la immediata sottoscrizione dell'accordo di programma il riavvio della procedura ed il ripristino delle risorse e questo lo voglio dire qui a radiofermo 1 ripristino le risorse che secondo me secondo me deve avvenire fin nel prossimo atto della regione che è l'assestamento di bilancio che sarà da qui a breve so bene che mi risponderanno che ci sono delle difficoltà eccetera ma è ovvio le difficoltà ce le abbiamo tutti ma se questa è una priorità come è una priorità che lo si dimostra decisa dalla regione dove sono stati già spesi dei soldi 4 milioni una priorità condivisa dal consiglio dell'autonomia locale l'anno scorso il cal su mia proposta il calmarca la conferenza dell'autonomia locale all'unanimità chiese alla regione nella redazione del bilancio di ripristinare e comunque garantire le risorse per la realizzazione dell'ospedale di Fermo quindi l'ha condiviso il sindaco di Pesaro il sindaco di Macerata di Ancona i presidenti di provincia quindi si deve d'accordo è una priorità le risorse vanno trovate attraverso i tagli i tagli in altri settori d'altra parte c'è una considerazione che anche questa ieri non ho fatto non ho fatto che approfitto di Radio Fermo 1 e spero che venga ripresa anche da altri quando noi vediamo che spacca il presidente spacca dice contrariamente a altri presidenti delle regioni che le regioni devono fare i sacrifici richiesti da Renzi nel patto di stabilità ok? nella legge di stabilità scusate non il patto nella legge di stabilità quindi la regione Marche è disponibile a fare questo sacrificio quindi che significa? significa la regione Marche è disponibile a tagliare delle risorse quindi a reperire delle risorse per far fronte ai tagli che il governo propone sia disponibile a fare questo perché non lo fa anche per lo spedale di fermo? questo è il punto quindi che si faccia i tagli da altre parti e si realizza l'ospedale di fermo ecco questa diciamo una riflessione che mi viene adesso diciamo qui dai microfoni della radio però credo che sia una riflessione che è difficile da contestare il rovescio della medaglia potrebbe essere che proprio in virtù dei tagli l'ospedale di fermo non si farà insomma no non è questo il problema è una scelta perché bisogna vedere se l'ospedale di fermo è o non è una priorità certo se si ritiene che non è una priorità allora si taglia ma allora lo si dica allora lo si dica forse lì è proprio il nodo lo si dica invece ieri è stato detto è stata riconfermata la volontà di procedere alla realizzazione una brevissima digressione Presidente perché io so che lei è impegnato su un'analisi del voto ieri c'è stata una conferenza che lei ha preseduto con il PD un successo per il Partito Democratico queste elezioni recenti elezioni provinciali con insomma che ha lasciato però per strada diversi feriti per usare un termine forte voi siete stati molto caustici nei confronti di Di Selle avete usato delle parole anche critiche nella lista dei sindaci insomma che aria si respira a casa in casa del centro-sinistra in casa del centro-sinistra quello al quale io faccio riferimento l'aria è ottima io non sono stato caustico con Selle io a Selle non devo dire nulla diciamo il comportamento di Selle in questa competizione si commenta da solo è stato caustico adesso sia di alcuni consiglieri che hanno scelto autonomamente di votare il candidato del centro-sinistra sia si commenta diciamo l'indicazione della segreteria di Selle di non votare la mia persona si commenta il comportamento di quei consiglieri di Selle che hanno votato altri candidati o quello del centro-destra o il candidato dell'aria dell'aria moderata noi è ottima c'è anche chi dice però come si fa a parlare di successo quando quasi tutte le amministrazioni al fermano sono di centro-sinistra sono nel PD e era una vittoria scontata questo non è vero questo non è vero non è vero che tutte le amministrazioni sono di centro-sinistra è per una ragione molto semplice il voto è un voto ponderato per fasce di abitanti ci sono cinque fasce allora prendiamo la fascia più grande fermo fermo è vero che amministra il centro-sinistra ma la maggioranza il centro-sinistra è 17 contro 16 il voto è il ponderato quindi è uno di differenza le fasce rosse i comuni tra 10.000 infatti afferma è successo un po' 10.000 10.000 abitanti noi governiamo Porto San Giorgio noi governiamo Porto Sant'Elpidio ma Sant'Elpidio a mare il PD è all'opposizione ha solo tre consiglieri a Montegranaro amministriamo insieme a SEL e insieme all'UDC e quelli sono andati per la loro strada quindi dove sta otta questa grande maggioranza nei comuni con la fascia grigia tra 5 e 10.000 abitanti Monte Giorgio è di centro-destra Monturano di centro-sinistra i comuni con la fascia arancione da 3 a 5.000 due di centro-destra due di centro-sinistra Amandola e Grotta Zolina di centro-sinistra Falerone e Altidona aria centro-destra i comuni piccoli 27 fino a 3.000 abitanti la stragrande maggioranza non è vero che sono di centro-sinistra saranno 2 3 gli altri sono o di centro-destra o sono liste o sono liste civiche ed essendo il voto ponderato non è vero che cosa era scontato noi abbiamo vinto abbiamo vinto bene abbiamo vinto bene questi sono i dati questi sono i dati perché il voto ponderato è il rapporto con la popolazione e quindi riporta quella misura è come se si confrontasse diciamo il corpo il corpo elettorale perché che significa voto ponderato non è che dove noi amministriamo a noi ci dà l'ottanta per cento e all'altro ci dà il venti l'esempio è fermo 17 a 16 e quindi la differenza non è dell'ottanta ma invece che è successo per questo il voto la vittoria è stata straordinaria perché mentre io affermo non avevo 17 voti sulla carta perché Sel non era con me noi sulla carta eravamo 15 grandi elettori il sottoscritto ha preso 21 grandi elettori è stato bravo a pescare quindi beh mi riesce abbastanza bene diciamo questo esercizio no? noi abbiamo preso a fermo il 70% 69% quindi è una grande vittoria abbiamo vinto anche nelle altre fasce dappertutto dappertutto con un voto complessivo ponderato del 61% abbiamo vinto in tutte le fasce abbiamo la maggioranza dei grandi elettori 238 mi sembra su su 400 su 417 e che cosa vanno a fare di più 26 sindaci hanno firmato per me hanno sottoscritto hanno sottoscritto la candidatura noi abbiamo avuto una grande vittoria in una competizione anomala ma una competizione vera dove da una parte c'era il capogruppo uscente di Forza Italia dall'altra il capogruppo uscente dell'Udc che attualmente sta anche al Consiglio Comunale di Fermo siccome ovviamente non è che si possa sostenere che gli altri candidati hanno fatto questa competizione per fare una passeggiata o per farmi lo spari in partner come si dice ma hanno fatto una competizione vera io credo la differenza è molto semplice io ho chiuso col 61% la Marcozzi col 24 Gallucci con il 14 io con questo Presidente questo è il dato e siccome questo è un fatto come dico sempre i fatti sono argomenti testardi rispetto ai quali inutile diciamo fare alchimie cervellotiche questi sono i fatti grazie Presidente io con questa sua considerazione chiudo qui questa piacevole intervista con il Presidente della provincia Fabrizio Cesetti grazie buon lavoro nell'augurarle buon lavoro io saluto tutti i nostri ospiti grazie a tutti